ah ti fa il video, quindi cerca di farlo un forte ah devi venire qua, dimmi è nato, faccio il giro sei pronta? no no dai amore sei viola in faccia? sei viola? dai fermo lì ah ti c'è sangue? ok urmano rilassati, respira ha il terrore di pisci eh si mentalmente sono bello però sono contento